Animale animale bentornati in questo nuovissimo video finalmente, finalmente siamo riusciti ad organizzare il terzo speciale dei 3 milioni Tantissimi sono giganteschi, si sono giganteschi tantissimi uno sopra l'altro ti immagino Oggi non sono chiaramente da solo perché ci sta Oh Vega Ciao raga Ma non c'è soltanto lui che si è fattuto un po' anche a creare No allora aspetta ragazzi è un esperimento Gli esperimenti possono fallire o possono riuscire Ci si può anche far male Quindi se ci possiamo far male facciamo far male un'altra persona che è uno stuntman che è Surry Eccocci Bella Surry come stai In caso di emergenza Trancio addosso così Ma lui è proprio diventato Miami Beach Abbiamo anche un paramedico nella squadra che è Stepney Direttamente da Foggia Oggi spacchiamo tutto ragazzi si va nello spazio E ormai lui è diventato Capultras Ora prima di andar via ci andiamo a preparare E perché sarà anche una lunghissima giornata Allora ci prendiamo il nuovo zaino 7 Che me l'hanno regalato E visto che in questo video dobbiamo fare le magie Oh Le Questo qua si dice di più all'estate Allora 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 Non possono mancare chiaramente Magliette Mates Collection a profusione Una Due Costume delle paperelle Assolutamente Una bella arancia Per tenermi in forma Una padella nel caso mi venisse fame E la targa se qualcosa andasse storto oggi Direi che ci siamo Cappellino in testa Cuffie 7 Che sono incluse nello zaino double face E si vola Gli altri sono già pronti Io sono pronto È l'ora di andare Sarà un lungo viaggio Seguitemi Di ghiaccio Sta diluviando Spazio Lo spazio Lo spazio In acqua Mi sa che siamo arrivati Sono arrivati Non so quanta strada abbiamo fatto Ma ci siamo Adesso finalmente posso Svelarvi che cosa andremo a fare Anche se probabilmente L'avete già visto dalla copertina Abbiamo un sacco di fili Come potete vedere Abbiamo le bombole Quindi andremo a gonfiare 210 palloni Larghi Un metro Quindi immaginatevi Un pallone così 200 Ho un disegnino Per farvi capire meglio Guardate Questo è visto dall'alto Questo dovrei essere io Questo quadrato Questi saranno tutti i palloni Che cercheranno Di tirarmi su Con tantissimi calcoli Che neanche io so Abbiamo preso Più o meno le giuste misure E i giusti calcoli Per tirare tutto su Il mio peso So solo che ci vorranno Veramente un sacco di ore Di preparazione Quindi Prima ci mettiamo sotto Meglio è Non so cosa succederà Cioè se ci riusciremo Se non ci riusciremo Se quando sarà in aria Tanto avrò un caschetto Quindi il caschetto Salva sempre tutti Allora qua possiamo vedere Parte del Geggio Dell'equipaggiamento 16 bombole Da 40 litri Di elio 5.0 Quello puro puro 200 sono tanti Primi 4 palloncini gonfiati Dei nostri colori E adesso dobbiamo appiccicarli Bene mi raccomando Qua c'è in gioco Insomma Allora quindi Facetta Facettiamo Siamo sicuri Che il filo regge Abbastanza Speriamo Come speriamo Siamo già messi bene Tutto messo male Ok Quindi facetta stretta Poi adesso si fa il nodo E vabbè Ma allora di lusso Dirò la verità Non è che proprio La fiducia La ispiri tantissimo Mi fido Allora vai Tutto ragazzi Che faccio Lascio Tu reggi lì Ok andiamo No Giuse Madonna mia Una cosa dovevi fare Una Non sono riuscito a reggere il pallone Già ce ne sono Adio Vabbè al massimo mi rincontrate dopo Al solo pensiero Di andare Sfuggire Nell'alto dei cieli Non è che mi ispira molto Vai Stefano Uno blu si arriva anche io Oh belli I mates sono quattro Io sto così bene A giocare a minecraft Così bello minecraft Sei a casa È fresco C'è la tua poltrona Con la tua tastiera È il tuo mouse preferito C'è di creeper C'è di zombie Bene animali Mi sono un attimo messo in disparte Per parlarvi un attimo Seriamente di questo video Ve l'ho un attimo spiegato Ma tutto ciò Ha una morale I primi due speciali Dei 3 milioni Sono stati molto D'amicizia Molto semplici E come ultimo video Come terzo speciale Dei 3 milioni Volevo darvi Un qualcosa di veramente Unico e speciale E da quando sono arrivato Ai 3 milioni Ho avuto veramente Tantissimi pensieri Nella mia testa Ho detto Wow Cavolo Io ormai lo faccio Da tantissimi anni E quindi ormai Sembra quasi una cosa normale Però mi sono sfermato A pensare Ho detto Cavolo 3 milioni di iscritti Non è una cosa normale Non è da tutti Quindi il concetto Di questo video È volare Un po' come Arrivare a 3 milioni di iscritti È come volare È una cosa Difficile no In breve Io dentro di me Mi sento veramente in alto Per aver fatto tutto questo Per essere riuscito A fare qualcosa Che per me era Neanche pensabile Tantissimi anni fa Quando ho iniziato Non ho iniziato Né per la fama Né per i soldi E oggi mi sono trovato Tutto questo Con una grandissima compagnia E veramente mi sento Come se volassi In questo momento Il concetto Di volare dei palloni È proprio questo Sentirmi libero E sentirmi in alto Sapete benissimo Che io metto sempre risate E intrattenimento Nei miei video E basta Oggi c'è una morale Mi apro a voi E speriamo che vada tutto bene Iniziamo a gonfiare Se no facciamo notte Dai ragazzi Sai che è quasi vuoto Basta però Secondo me facciamo una brutta fine qua Sono già scoppiati 5 palloncini È un po' tragica Come percentuale Mi porto nel deposito palloncini Madonna Sembra una iperfessa Di compleanno Tipo di quando fai Non lo so Speriamo che non esplodano Perché sono costosissimi E fa male le mani Chiuderli e gonfiarli Abbiamo raggiunto un punto un po' drastico Che in treno Non riusciamo a tenerli Raga non lo tengo All'incirca abbiamo messo poco più di 100 palloni L'arrivo dovrebbe essere 180 circa Per tirarmi su e farmi volare Quindi niente Vediamo quando spicco il volo O almeno plano Si plane, si bomba Si plane, si bomba L'uomo sulla luna raga Aiuto Aiuto Oh mio dio Sono un ninja Animale animale Purtroppo Non si può avere per sempre La gravità della luna Sarebbe stato veramente bellissimo Spero che questo video Dei 3 milioni Specialissimo In compagnia dei mates E non solo Vi sia piaciuto Basta Non sono un giochino Dio devo liberarti Se no ti lascio qua Ora purtroppo dobbiamo bucare Un pomeriggio di gonfiamento palloni E un budget davvero alto E un sacco di soldi Però purtroppo va fatto E ci buttiamo in piscina Perché siamo a volerci Oh Quella è un'operazione Piano piano Guarda i palloncini Siamo su tutto Noeli Animale animale Dopo questo grandissimo Esperimento Quasi Riuscito al 100% Ma divertentissimo Ci siamo meditati Un bel po' di relax Perché dietro di noi Ci sta la piscina Ultimo c'è capo Finto Ma che cosa Aspetta le scarri Ma fatti no Ma fatti no Mi potete iscrivervi al centro Guardare altri video Bellissimi videoati E non ci si beccate Un prossimo video Poi che vi ricontriai milioni Grazie mille Wooo Grazie a tutti.